E' partita questa mattina l'installazione del nuovo impianto di illuminazione dello stadio Mancini di Fano. Il progetto prevede la completa sostituzione delle torri faro presenti nell'impianto con delle nuove strutture alte 36 metri distribuite nei quattro angoli del terreno da gioco. A verificarne l'andamento delle operazioni il vice sindaco Cristian Fanesi che questa mattina ha fatto un sopralluogo della struttura sportiva nel quartiere di San Lazzaro. Sono quattro torri di 36 metri in acciaio dal peso ciascuna di 7.000 chili che questa mattina saranno issate e rette presso lo stadio Mancini e certamente sono necessarie per rendere ancora più luminoso lo stadio Mancini e per incontrare requisiti della Lega Pro. Sono 24 proiettori in ciascun palo in quelle a nord, quelle alle mie spalle e sono 18 proiettori invece in quelle posizionate lungo via Vivaldi. Con questo intervento, prosegue poi Fanesi, la struttura potrà ospitare anche manifestazioni sportive in orario notturno. Inoltre è previsto anche il rifacimento delle linee elettriche di tutti gli ambienti della struttura, comprese i settori gradinata. Un lavoro molto importante, la GM Costruzione di Fano che ha vinto l'appalto del rifacimento del nuovo stadio, attività che ha comportato anche la riqualificazione della tribuna ospiti da 500 posti sempre lungo via Vivaldi. La GM Costruzione ha lavorato benissimo, sta concludendo questo lavoro insieme alla ditta Pali Campion che è appunto la ditta che ha vinto il subappalto per l'erezione di queste torri, un lavoro anche dal punto di vista tecnico molto impegnativo. Ringraziamo quindi le ditte, l'ingegnere Talozzi come direttore lavoro, i tecnici del comune di Fano e la società Alma Juventus Fano Calcio che ha collaborato pazientemente con tutte le attività che sono girate intorno allo stadio Mancini e anche ai residenti di San Lazzaro perché da qualche giorno hanno occupato i pochi parcheggi che ci sono da queste torri che appunto crediamo e speriamo si possano installare tra oggi e domani in maniera definitiva. Un lavoro molto importante di cui siamo certamente contenti, il campo così facendo incontra tutti i requisiti della Lega Pro, quindi un'operazione importante da tempo attesa e che oggi concludiamo in maniera efficace.